Primo luglio 2023 a Toledo in Ohio per la prima volta negli Stati Uniti si terrà l'Italian Ball, il Super Bowl italiano. Si sfideranno le due migliori squadre della prima divisione del nostro campionato, il football americano. Sta prendendo sempre più piede in Italia. Lo scorso anno i Guelfi di Firenze hanno vinto il campionato riportando un titolo maschile di squadra in città dopo 40 anni ed è proprio nel capoluogo toscano che è stata giocata la prima partita di football americano nel nostro paese. Era il primo gennaio 1945 allo Stadio Franchi. Si sfidarono US Army e US Air Force. Da lì nacque il fascino per questa disciplina arrivata poi in tutta Europa. Ormai siamo diventati non solo combattenti ma adesso alleati, amici e lo sport è una parte fondamentale della vita e la condivisione adesso di questo sport, questa passione per il football americano approfonde ancora di più il nostro legame, i legami fra i nostri paesi. E adesso i Guelfi di Firenze sognano di poter vincere ancora e andare a disputare il prestigioso evento. Eh sì, non mi nascondo, noi abbiamo costruito la squadra, abbiamo fatto evolvere la squadra dell'anno scorso con questo obiettivo e sull'obiettivo di fare una bella prestazione anche in Coppa dei Campioni.